Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Io sono Rossella e oggi faremo una lettura angelica dove andremo ad affrontare il tema della manifestazione dei vostri sogni di abbondanza. Quindi andremo a vedere nello specifico cosa gli angeli vogliono di darci come messaggio, di incoraggiamento, di aiuto, alcuni consigli e così via. Iniziamo con una preghiera di protezione, ok? Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore seguono questa lettura angelica. Invoco te Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, coscienza amicaelica e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato e di creare uno scudo di protezione completo, impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo massima protezione fisica, psichica in tutti i livelli, per me e tutte le persone coinvolte. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie all'intera coscienza amicaelica, è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Vediamo un po' che messaggi hanno gli angeli questa settimana. Lavoro di guarigione energetica. interessante perché decidi di essere felice adesso. Eh sì, Michele è sempre molto diretto, molto assertivo, molto carino e prenditi il tempo per decidere, ok? Ora vediamo un po', prendiamo le carte dell'abbondanza, degli angeli dell'abbondanza, quali sono i consigli. Poi voglio prendere anche una carta da un altro mazzo, perché sono le carte della manifestazione di The Secret di Rhonda Barn, sono in lingua inglese, adesso sono uscite anche in italiano. Lasciamo andare le lamentele, ok? Usciamo dalle energie di paura, non ti servono. Illimitate idee, ok? Idee illimitate, quindi sei nel tuo massimo potenziale di creatività. Scusate, sono cadute troppe carte, quindi non posso comprenderle nella lettura. Sono un pochino sottili. Vediamo un po', natura, connettiti con la natura, ok? Ora vediamo queste carte, io le adoro, le carte delle fatte, messaggi delle fatte. Sono molto precise queste, le trovo molto, molto precise. Fai un, allontanati da questa situazione spiacevole, poi vediamo cosa vuole dire l'arcangelo Michele, cosa vogliono dire i nostri angeli. Allora, figlio, che può voler dire tutto e niente, nel senso che ha diversi significati. Primavera, prossima primavera, o primavera anche, ancora non siamo d'estate, quindi... Allora, vediamo un po', anche se c'è un caldo incredibile, ragazzi, le temperature sono aumentate notevolmente qua in Sardegna, secondo me siamo almeno sui 35 gradi, c'è un caldo incredibile. Allora, vorrei prendere anche una carta da queste carte della manifestazione, che io trovo veramente potenti, Arcangelo Michele, chiedo protezione, guarigione, messaggio veramente d'amore per tutte le persone coinvolte. Grazie, così è. Ci indicano che tipo di vibrazione e frequenza siamo adesso, quindi naturalmente questa è una lettura collettiva, quindi riguarderà la maggior parte delle persone coinvolte, tu sei nato creatore, quindi leggeremo il messaggio finale molto interessante delle carte della legge dell'attrazione. Allora, iniziamo con l'invito da parte dell'Arcangelo Michele a rivolgervi ad un guaritore, ad un facilitatore della guarigione energetica che più vi risuona nel cuore, cercate di ascoltare il cuore e l'anima, andate da persone fidate, da persone che usano la protezione, fate un lavoro energetico con le frequenze, con l'energia di guarigione per risolvere questa situazione, per armonizzare la situazione stessa, quindi mandiamo energia di luce, di amore, se già avete l'energia nelle mani, fate delle sessioni di guarigione alla situazione che state vivendo adesso, va bene? Il vostro obiettivo è quello di manifestare abbondanza, abbondanza può essere ricchezza, ma può essere anche amicizie, può riguardare anche la sfera affettiva, i rapporti familiari e tutto ciò che concerne l'abbondanza, quindi voglio dire non si rivolge solo alla ricchezza, ma a tutti gli aspetti della vostra vita. Naturalmente tu sei molto proiettato nel futuro, stai cercando di portare il futuro nel presente, continua con le affermazioni positive, continua a lavorare sulla manifestazione, però rimani anche radicato nel momento presente, cerca di vivere con gioia il presente, con gratitudine, focalizzati sulle cose per cui sei grato, per cui sei grata, hai una casa, hai un marito, una moglie, una compagna, un compagno, un amico, un'amica, i tuoi genitori, un fratello, una sorella, un gagnolino, ecco inizia a ringraziare per ciò che hai, hai da mangiare, hai da bere, hai un lavoro, oppure hai tutto quello che si serve per vivere, vivi vicino alla natura, ringrazia per il sole, per la bellezza che la natura trasmette, ringrazia per il fatto che sei sano, ringrazia per il fatto che sei vivo, ecco concentrarsi sulla gratitudine, è un modo per radicare l'energia nel presente e per manifestare nella tua vita più cose per cui essere grati, ok? Prenditi il tempo per decidere, diciamo che sei portato a prendere una decisione, perché è una decisione importante che cambierà la tua vita, cioè questa decisione eh è molto, diciamo che non devi prenderla di petto, devi prenderla, devi meditarci sopra, non pensare troppo, ma meditare, far sì che la risposta arrivi dal tuo sacro cuore e arrivi da uno spazio di pace, di armonia, di gioia, di serenità, perché questo è quello che tu devi eh trasmettere, emanare, questo è quello che tu devi eh devi vibrare in questa frequenza per manifestare i tuoi sogni, quindi per piacere esci dalla lamentela, ripeto focalizzati nel presente, nella gratitudine, la lamentela ti butta giù e poi eh diciamo che già se tu ti lamenti sei in una frequenza molto bassa, ma in più si attaccano tutte le forme pensiero di paura, di rabbia, di dolore, di sofferenza, di giudizio, cioè ti si attaccano come delle gregore, cioè come delle eh delle sanguissughe che ti bruciano, ti rubano ancora più energia, quindi veramente hai bisogno di uscire dal caos, fai una preghiera di protezione, fai un processo di liberazione con l'arcangelo Michele, fallo tutti i giorni, questo ti servirà per pulire la tua energia, per liberarti dalle forme pensiero e voi che di paura, va bene? Ecco che poi quando la tua energia è pulita, sei più radicato, sei più centrato, sei più connesso e quindi avrai, ci sono idee, idee di innovazione, idee di veramente creative, molto importanti per i tuoi progetti, quindi assolutamente ascoltale perché queste idee ti porteranno nella direzione giusta, faranno sì, dice l'arcangelo Michele, che il tuo lavoro sia un lavoro unico nel suo genere, originale e ti distinguerai dalla massa perché tu sei un faro e stai brillando di luce tua, non copiare gli altri, ascolta la tua intuizione, ascolta la tua originalità, ascolta il fatto che tu sei unico nel tuo genere e questo ti rende veramente speciale, quindi manda avanti i tuoi progetti, fai le scelte giuste con azione mirata che deriva da una profonda meditazione, una comprensione di quello che è giusto fare, ascolta le idee creative e diciamo che tutto andrà per il meglio, ma anche la guarigione energetica, dice l'arcangelo Michele, è molto importante in questo momento per te, per il tuo progetto, va bene? Poi per rimanere centrato, uscire dal caos, abbiamo parlato di preghiera, di meditazione, ma anche di natura e bisogna un po' di uscire, basta stare sempre dentro casa perché voglio dire, dentro casa è il tuo spazio, io questo lo comprendo, magari fai anche la tua purificazione della casa e degli ambienti, ma comunque ci sono onde, i cellulari, il wifi, il bluetooth, il wifi di tutte le palazzine intorno a casa tua, le antenne, il televisore, la radio, lo stereo, la stampante, cioè sono tutte onde elettromagnetiche che disarmonizzano un po' il campo aurico, quindi diciamo la tua energia, la tua anima ha bisogno di ricaricarsi energeticamente nella natura, anche per armonizzare la tua energia, per ritrovare la pace e la serenità, io consiglio sempre di fare una passeggiata la mattina, appena svegli, oppure la sera, però fatela perché veramente vi rigenera e vi cambia la vita, ok? Alcuni di voi siete chiamati ad allontanarvi da una certa situazione che non è molto salutare per voi, va bene, magari un rapporto che è già finito, non state lì a continuare, a mandare avanti una cosa che ormai non c'è più, non c'è più, ok, un conto è se rimane un'amicizia, va bene, ma se questa persona ormai non fa più per voi, lasciatela andare, abbiate il coraggio di lasciarla andare con amore, perché questo vi sta un po' tenendo legati a un passato, non vi dà la possibilità di aprire le porte al nuovo, si può trattare sia di una relazione affettiva, ma anche di un lavoro che ormai, cioè non state lì sempre a dire, va bene, ci ritento, ci ritento, ci ritento, perché magari quella non è la strada per voi, cioè l'universo vi ha già mostrato che si può manifestare qualcosa di nuovo, qualcosa di più grande, quindi ascoltate il nuovo, lasciate andare il vecchio o perlomeno proiettatevi sul nuovo e appena il nuovo fiorirà, per così dire, potete staccarvi dal vecchio, no? Però diciamo che assolutamente se la tua domanda è ma questo lavoro è per me, no, non è per te, perché ti sei già reso conto, resa conto che è troppo pesante, sono troppe ore, le energie sono basse, i colleghi non vanno bene, hai bisogno di esprimere la tua arte, la tua creatività, naturalmente se vuoi fare l'operatore olistico ti devi formare, quindi magari questo lavoro adesso ti è utile per darti la possibilità economica di investire nella tua formazione, fatto questo, puoi chiudere col vecchio e aprire col nuovo, alle volte è una transizione, non è un taglionetto, però questa è una carta, è un avviso che ti sta dicendo, occhio, che c'è di meglio per te, va bene? Assolutamente, se hai figli, un figlio maschio in particolare, questo figlio è protetto dall'Arcangelo Michele, pregare per lui assolutamente è un invito da parte dell'Arcangelo Michele, preghiera di protezione, perché in questo momento è un pochino delicato, magari sta affrontando una fase importante, sta apportando dei cambiamenti nella sua vita, ha bisogno del tuo sostegno energetico, va bene? Però comunque stai tranquilla che è al sicuro, questa carta può voler dire anche che alcuni di voi stanno aspettando un bambino, oppure in alcuni casi potrebbe essere anche un animale domestico che voi considerate come un figlio, quindi più preghiera, gli angeli stanno vegliando su di lui, tutto è a posto, però diciamo che un'attenzione in più in questo momento è necessaria, va bene? Ok, i tuoi disideri si manifesteranno con la primavera, diciamo che appunto noi siamo alla fine della primavera, all'inizio dell'estate e quindi siamo in una fase di transizione importante, ok? Alcuni di voi riusciranno a manifestare i propri sogni adesso, altri l'anno prossimo, nella stagione primaverire dell'anno prossimo, dipende da quanto tu stai anche agendo nella direzione dei tuoi sogni, va bene? Però insomma la primavera indica un momento preciso della manifestazione, cioè l'energia è pronta, va bene? Quindi prima dell'estate alcuni di voi riusciranno appunto a manifestare il proprio progetto, magari mi scrivete nei commenti se sta accadendo proprio a voi, se la vostra vita sta cambiando, se tutto sta arrivando come avete chiesto, no? Ok? Tu sei nato un creatore, cioè noi dobbiamo essere consapevoli che noi creiamo la nostra realtà consapevolmente, quindi facendo le nostre pratiche giornaliere di manifestazione o inconsapevolmente l'inconscio che crea. Quindi o noi riprogrammiamo l'inconscio per far sì che possa rispondere alla nostra volontà e far sì che la nostra volontà e l'inconscio siano una cosa sola in comunione di intenti, alle volte in base ai sistemi di credenze che noi abbiamo, anzi nella maggior parte dei casi le persone non hanno voglia di praticare la manifestazione, non ci credono, oppure proprio semplicemente non hanno voglia di dedicare del tempo a questa pratica fondamentale per creare la vita dei propri sogni. In realtà io voglio una cosa, la desidero ardentemente, ma se l'inconscio ha un sistema di credenze depotenziante e limitante, è l'inconscio che crea. E guardate ragazzi, io sono veramente su certe cose manifesto così, su altre ci vuole più tempo, su altre ci sono dei blocchi importanti, ma praticando veramente con la riprogrammazione si stanno sbloccando delle cose incredibili in tutti gli aspetti, io non parlo solo dell'aspetto economico, parlo anche dell'aspetto delle relazioni, dell'aspetto dell'immagine di te stesso, di te stessa, perché questo è determinante, fondamentale anche per manifestare un'amicizia, l'amore, perché se tu non ti senti degno, non ti senti degna di essere meritevoli, di ricevere gli amici veri, l'amore è vero, a qualche livello, anche se tu dici grazie perché ho degli amici, ma dentro non ti senti degno, vince sempre la credenza, cioè quella che prevale. Quindi è importante fare un grande lavoro di manifestazione. Io ve lo consiglio veramente, se avete problemi, se volete fare un lavoro di coaching con me, perché io veramente vi posso insegnare degli strumenti potentissimi, tra cui il logo sealing e la riprogrammazione, non solo col tapping, ma tutte le modalità che io utilizzo durante il giorno per mantenere alte le frequenze e per far sì che i pensieri, le parole, le azioni, le intenzioni, siano come un laser nella direzione dei nostri sogni. Cioè, voglio dire, è meglio passare tutto il giorno a pensare a quello che voglio, anche se ci vuole un distacco, però voglio dire, se dovete manifestare velocemente, ok, c'è bisogno, è come quando vai ad allenarti tutti i giorni, piuttosto che tre volte a settimana, dipende dagli obiettivi che hai. Se gli obiettivi sono importanti, una ripetizione giornaliera, mantenere il focus nella direzione dei tuoi sogni, ti aiuta a manifestare più velocemente, ok? Tu sei qui, in questo fantastico e glorioso pianeta, con questo potere straordinario di creare la tua vita. Non ci sono limiti a quello che tu puoi creare per te stesso o per te stessa, perché la tua abilità di pensare è illimitata. Quindi attenzione a dove focalizziamo i nostri pensieri, parole ed azioni, va bene? Ok, anime belle. Bene, io sono felice, questa è una, veramente mi piace, questa lettura è molto in risonanza con il mio sentire. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con le carte o come connessione diretta. Faccio anche dei corsi one to one o di gruppo per imparare la connessione angelica con le carte, come scrittura ispirata e come connessione diretta. Insegno anche il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce, one to one o di gruppo. Volevo dirvi che la nuova classe partirà il 10 luglio 2024, va bene? Massimo 10 persone, ci sono ancora 9 posti. Quindi se sei interessato, sei interessata, contattami, sarà un'esperienza unica nel suo genere. Veramente questi corsi cambiano la vita, perché cambiano il tuo mindset, la tua energia. Inizia a percepire le frequenze nelle mani, lo puoi usare per aiutare te stesso e gli altri. Puoi valutare se farlo come lavoro oppure semplicemente per il tuo benessere in tutti i livelli, per avere un livello vibratorio più alto. Sono scelte personali, ma se senti la chiamata non esitare a contattarmi. Io ti saluto, vi abbraccio col cuore, un bacione a presto. Ciao ciao!